L'associazione culturale Il Bertoldo, amici di Sandro Fontana, è un'associazione che si propone di ricordare Sandro Fontana e diffonderne l'insegnamento e la testimonianza e promuovere iniziative in ordine alla cultura, all'impegno sociale e civile nell'ambito della cultura cattolica, democratica e alla ricerca storica. L'associazione, con sede a Marcheno, presieduta dal dottor Fabrizio Ricci, ha per fine la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei suoi soci nei campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione e dell'arte in generale e della riscoperta della storia locale. Non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e contributi di enti pubblici e privati. L'associazione Il Bertoldo ricorda Sandro Fontana, illustre cittadino di Marcheno-Valtrompia, con quattro serate culturali che si svolgono nella biblioteca di Marcheno alle 20.30. Dopo il successo delle iniziative dei giovedì 6 ottobre, col professore Emanuele Freddi, di giovedì 20 ottobre, con Ardento Soffici, in guerra, la ritirata del Friuli, tra letteratura e storia, con la professoressa Federica Zanoletti. È il turno giovedì 3 novembre prossimo, il fantasy, una porta sulla realtà, con Sara Cremini e Francesco Codenotti, scrittori fantasy che abbiamo sentito. Buonasera a tutti, siamo gli autori gardonesi Sara Cremini e Francesco Codenotti e siamo qui per ricordarvi gli appuntamenti creati da Il Bertoldo, l'associazione culturale di Marcheno, che ogni due giovedì sera alla biblioteca comunale organizza dei fantastici incontri con gli autori. In particolar modo giovedì prossimo, 3 novembre, sarà il turno della nostra convention, il fantasy, una porta sul mondo reale e sul futuro. Vi aspettiamo quindi alle 8 e mezza, prezzo la biblioteca di Marcheno, per parlarvi di fantasy e per parlarvi di magia. Buona serata a tutti! Ciao! Ciao! Ciao!